Come le membra formano un corpo, così i giocatori formano una squadra e le persone una comunità. In questo senso lo sport può essere simbolo di unità per una società, un'esperienza di integrazione, un esempio di coesione e un messaggio di concordia e di pace. Sono le parole con cui Papa Francesco ha concluso in aula del Sinodo il convegno internazionale dello sport promosso dal dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Lo sport, ha ribadito il pontefice, è un alleato formidabile nel costruire la pace. Oggi abbiamo tanto bisogno di una pedagogia di pace, di far crescere una cultura di pace a partire dalle relazioni interpersonali quotidiane per arrivare a quelle tra i popoli e le nazioni. Se il mondo dello sport trasmette unità e coesione può diventare un alleato formidabile nel costruire la pace. E sono gli atleti professionisti quelli presenti al termine dell'incontro hanno firmato con il Papa un documento sulla responsabilità sociale dello sport, il punto di riferimento per molti giovani e che possono aiutare a superare la cultura dello scarto e promuovere un riscatto personale e sociale. Quante persone che si trovano in condizioni di marginalità, ha spiegato Francesco, hanno superato i pericoli dell'isolamento e dell'esclusione proprio attraverso lo sport. Sport che deve contribuire a generare personalità mature e riuscite. Lo sport è un bene educativo, un bene sociale e tale deve restare. Per questo abbiamo una responsabilità di far sì che lo sport sia accessibile a tutti. La Chiesa, ha concluso Francesco, è vicino allo sport perché crede nel gioco e nell'attività sportiva come luogo di incontro tra le persone, di formazione, ai valori e di fraternità. E per fare questo è importante abbattere tutte le barriere, quelle fisiche e quelle relazionali. Accessibilità e accoglienza, queste le strade da seguire per promuovere uno sport a misura di ciascuno, in cui ogni persona può sviluppare i propri talenti, anche a partire da una condizione di fragilità o disabilità.